oggi vi voglio raccontare una mia personale curiosa esperienza ieri sono andato un po in giro mi volevo comprare una giacca molto leggera molto estiva e ho penato molto lo sapete perché ho penato molto perché trovavo tutte giacche molto corte il trend della moda maschile è quella di fare giacche molto corte e pantaloni strettissimi per carità i pantaloni strettissimi possono andare bene ma le giacche molto corte non capivo perché io volevo la mia giacca della altezza normalmente l'altezza di una giacca deve corrispondere alla metà del pollice messo in fondo alla giacca invece trovavo delle giacche molto corte che mi lasciavano abbastanza libero il cosiddetto sedere gratta 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 alla fine sono riuscito a trovare una giacca della mia misura ma perché si fanno le giacche così corte ma perché signore ma perché si deve vedere anche il sedere dell'uomo a per carità per carità benissimo però si può vedere anche il sedere dell'uomo alzando un po lo spacco perché si deve mostrare il sedere dell'uomo sì d'accordo le donne fanno di tutto per mostrare le loro gambe gambette nei loro shorts però curiosamente non si potrebbe essere più normali e usare degli stilemi di eleganza anziché cadere nella cafoneria grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti